Ciao a tutti, oggi prepariamo il purè, un contorno tipico della cucina italiana. Ecco gli ingredienti. Iniziamo la preparazione sbucciando le patate. Poi mettiamo le patate in una pentola con acqua calda e sale e cuociamo per circa 40 minuti. Una volta cotte togliamo le patate dall'acqua e nella stessa pentola mettiamo il burro a sciogliere. Poi con uno schiacciapatate schiacciamo le patate. Ora aggiungiamo il latte intero e mescoliamo. Aggiungiamo poi la noce moscata e il pepe. Continuiamo a mescolare per altri 10 minuti. Il purè è pronto. Se vi è piaciuta la ricetta cliccate mi piace e condividetela con i vostri amici. Potete anche visitare il mio sito, iscrivervi al mio canale e guardare le altre ricette italiane.